e abbiamo fatto un lavoraggio 271 email allora siccome praticamente io ho fatto una cosa siccome non è che ce l'hanno tutti c'è il senso della realtà c'è praticamente descrivere per in lingua italiana la situazione in maniera reale ma praticamente se io praticamente conosco il caso e praticamente se conosco i fatti reali quelli veri e praticamente scrivo tutto quanto in maniera reale cioè in maniera da descrivere le cose in lingua italiana in maniera da essere capita e ho fatto così siccome era l'unica possibilità perché se uno fa un'altra cosa non è che succede qualcosa allora in pratica ho fatto così e l'ho mandato a delle persone ho cercato delle prove praticamente delle sentenze vecchie sono dei documenti vecchi e denunce vecchie anche senza timbro ci sono praticamente delle fotografie e altre cose tutti insieme in un sito dove c'è il libro la chiesa italiana praticamente che senza la parte filosofica di di alcuni testi che erano racchiusi dentro sarebbero la vita eterna è fatta così le mie confessioni la vita e la vita è un uomo e il suo sapore dell'aria e resta la biografia di Antonio Come praticamente sarebbe un esperimento cioè praticamente se riescono delle persone a leggere un caso reale a descriverlo nella realtà a fare uso di questi fatti per parlare di qualcosa e a vedere se riescono a capire altre cose che magari sono successo a loro è un esperimento grazie